Un'emozione forte è quella che hanno vissuto i componenti della delegazione fanese che nell'ambito della Festa del Cinema di Roma, grazie alla collaborazione della Film Commission della Regione Marche, hanno potuto assistere alla presentazione ufficiale del film del Carnevale di Fano realizzato da Andrea Loduvichetti, Luca Caprara e Nicola Nicoletti. Per l'occasione infatti gli autori hanno realizzato un breve video di presentazione che è stato proiettato negli spazi di Alice nella città. Nel docufilm, raccontato Loduvichetti, l'intera comunità prende vita in un'opera che celebra la nostra cultura. Ricordi filmati e una tradizione, quella della cartapessa e dei maestri carristi, che generazione dopo generazione hanno saputo costruire tra creatività, ingegneria e manualità dei palcoscenici viaggianti chiamati carri. Poi il vulone, il suo incontro con un bambino, lui non sa nulla del Carnevale di Fano, chi meglio di una maschera per accompagnarlo tra sfilate, costumi e dolciumi e per raccontargli che in fondo il Carnevale non è soltanto una festa ma qualcosa di più, un sentimento, uno stato d'animo che scalda il cuore di una città e di un intero territorio. Ci sarà un attore protagonista che è il piccolo Edoardo, ma tutta la città, tutta la nostra comunità, tutta la nostra regione e valorizzeremo al meglio questo docufilm lanciando a marzo la candidatura a Carnevale d'Italia all'interno dell'UNESCO. Quindi un lancio importante per un docufilm che sicuramente farà grande successo come è stato fatto anche per Pesca Mare sempre di Andrea Lodovicchetti. Quindi grazie al Ministero della Cultura e alla Regione Marche per aver sostenuto questo importante progetto. La proiezione al Festival del Cinema di Roma è solo un antipasto perché nei prossimi giorni il film dedicato al Carnevale sarà proiettato anche nelle sale cinematografiche di Fano. È un grande onore per la città di Fano, soprattutto per il Carnevale, essere qui oggi a Roma a presentare il film sul Carnevale, un prodotto unico per cui hanno lavorato tanti mesi, i registi, gli attori e per una buona parte della città. Con il film sul Carnevale di Fano intendiamo promuovere lo stesso Carnevale e lanciare il nostro Carnevale come un Carnevale identitario, un Carnevale dentro il quale immergersi ogni anno per passare veramente delle settimane spensierate ma anche ricche di storia, di tradizione. Questo è il nostro Carnevale e con questo film siamo convinti che entrerà ancora di più nei cuori non solo dei cittadini fanesi ma anche di tutte le persone che sono affezionate al nostro Carnevale.